cercate l'europa sul tuo play store o apple store e scarica la nostra app benvenuti ad una nuova puntata di agricoltura dall'attarico dove ci eravamo lasciati nella puntata precedente oggi ci troviamo a Tarsia, esattamente all'interno del frantoio lento un frantoio a ciclo continuo, vedremo in questa puntata infatti tutte le fasi della trasformazione delle olive raccolte in olio extravergine arriveremo anche a parlare, a conoscere, a testare la qualità sensoriale dell'olio d'oliva extravergine attraverso un esperto, un capo panel e nel frattempo con l'aiuto del nostro esperto il dottore Iannotta, questa puntata, cominciando anche a capire quanto è importante il trasporto delle olive fino al frantoio per avere una buona qualità di olio sì, noi ci eravamo lasciati in campagna dove praticamente aveva termine la prima fase della filiera olivicolo-olearia che è quella agronomica quindi siamo arrivati alla raccolta, all'epoca alla modalità di raccolta da quel momento in poi subentra la seconda parte della filiera che è quella afferente alla trasformazione del prodotto il primo criterio fondamentale per mantenere, perché abbiamo già specificato che la qualità si costruisce in campo, però poi nel corso della trasformazione quindi della seconda parte della filiera, questa qualità va mantenuta e quindi bisogna evitare che succedano degli imprevisti, delle cose che possano in qualche modo alterare la qualità del prodotto il primo criterio è quello di raccogliere e di trasportare nel più breve tempo possibile le olive dal campo al frantoio e poi ovviamente per essere frante anche quelle nel più breve tempo possibile oggi i tempi medi si parla di 24-48 ore sono i tempi attraverso cui poi deve iniziare il processo di lavorazione anche la modalità di trasporto e di conservazione delle olive riveste notevole importanza perché nella tradizione si usavano mezzi di ogni genere, sacchi, cose eccetera oggi invece è necessario che queste olive vengano trasportate in apposite cassette finestrate, aerate in maniera tale che impediscano l'innescarsi dei processi di fermentazione lattica che sono quelle che poi danno luogo all'acidità libera che è quella che noi nell'olio non vogliamo assolutamente quindi queste olive vengono trasportate in frantoio dove abbiamo detto nel più breve tempo possibile devono essere molite adesso noi ci troviamo proprio in una struttura di questo genere dove esiste un frantoio al ciclo continuo come citava l'epocanze quindi diciamo con tutti i criteri per poter fare un olio di qualità abbiamo anche visto che praticamente sono sotto controllo tutti i parametri a cominciare da quello della temperatura che riveste molta importanza per il mantenimento delle sostanze aromatiche e quindi dei profumi, del flavor che poi noi troveremo nell'olio una temperatura che si deve fermare sotto i 30 gradi esattamente, deve essere compresa fra i 27 e i 30 gradi perché diciamo a queste temperature si evita che le sostanze volatili scompaiano dalla situazione quest'anno è un'annata diciamo un po' così così perché abbiamo avuto un decorso stagionale estivo particolarmente negativo ci sono state molte piogge, molta umidità questo ha permesso lo sviluppo di numerose malattie, di parassiti anche di carattere endomatico la famosa famigerata direi mosca delle olive ha fatto diciamo le stragi che doveva fare e anche diciamo l'alterazione delle olive stesse si è assistito anche ad una cascola perché oltre alla mosca c'è stato un ulteriore attacco si, 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 molte olive sono cascolate per effetto degli attacchi di mosca e anche per le cattive condizioni atmosferiche venti, cose eccetera che hanno buttato giù queste olive una volta buttate giù le olive sono irrecuperabili l'abbiamo detto nella fase agronomica abbiamo detto che le olive devono arrivare raccolte direttamente dalla pianta in qualunque modo si vogliano raccogliere ma pur sempre dalla pianta e noi non ci stancheremo di ribadirlo e noi non ci stancheremo di ribadirlo quindi poi una volta arrivate qui queste olive anche dal punto di vista dell'acqua adesso è presto per fare valutazione di carattere generale anche sulle caratteristiche chimiche degli oli eccetera quindi a sapere che cosa effettivamente contengono questi oli però c'è da presupporre che l'eccesso di acqua che c'è stato e anche l'assorbimento dell'acqua in qualche modo abbia inibito lo sviluppo e la creazione di quelle sostanze fenoliche che fanno parte del gruppo che noi chiamiamo polifenoli e che rivestono notevole importanza sia per la conservazione dell'olio anche per la salute di chi lo consuma esattamente perché essendo sostanze antiossidanti evitano l'ossidazione ovviamente dei processi ossidativi dell'olio quindi il numero di perossidi eccetera e naturalmente anche l'effetto antinfiammatorio che sul consumatore, sulle persone che consumano olio ha un effetto salutistico di grande importanza comunque questo poi lo vedremo e parametri comunque sono importantissimi perché per esempio qui già ci troviamo in una zona spiccatamente evocata e spiccatamente indirizzata verso oli a denominazione d'origine protetta come l'IGP olio di Calabria e quindi questi parametri poi devono rientrare in quelli che sono previsti dal disciplinare quindi naturalmente è molto importante che questi riscontri poi si realizzano alla fine delle produzioni per quanto riguarda le varietà effettivamente noi qui siamo in una zona spiccatamente dedicata all'IGP perché abbiamo le cultive più importanti della provincia di Cosenza che sono la Carolea la Rogianella qui in questa zona c'è anche qualche cosa di Casterese vediamo qui che praticamente la raccolta che è stata fatta anche da questo piccolo campione presente sul nostro bangale che praticamente ci sono diversi livelli di maturazione delle olive a livello di invaiatura la maggior parte sono verdi altre sono invaiate diciamo in percentuali varie e solo pochissime sono già completamente invaiate questo è quello che noi preferiamo per fare oli di qualità cioè questa situazione è quello che permette poi di avere quelle caratteristiche sensoriali che poi il nostro capopanel Massimiliano Pellegrini ci spiegherà a Brenne e che praticamente riguardano l'amaro, il piccante e tutti gli altri sendori che sono legati a un'analisi sensoriale degli oli allora questo dicevamo è un'annata molto particolare oltretutto le olive hanno sempre alternato delle annate un po' più particolari quest'anno si è messo di mezzo anche il tempo quindi la temperatura parliamo di resa dunque io sulla resa vorrei fare una piccola riflessione perché adesso quest'anno magari si è portata a dire che le rese sono diminuite in realtà non è così perché è aumentata la quantità d'acqua e quindi questa maggiore quantità di acqua dà l'apparenza di una minore resa ma in effetti la resa non dipende dall'acqua che c'è all'interno delle olipe la resa dipende innanzitutto dall'aspetto genetico quindi dal genotipo dalla cultiva poi dipende da tutti i fenomeni fisiologici e metabolici che la pianta riesce ad esprimere durante il processo di maturazione in questi casi qui la presenza di acqua è positiva perché i processi di sintesi lipidica sono favoriti dalla presenza di acqua e di un maggiore metabolismo della pianta in presenza di acqua salvo qualche piccolo particolare come accennavo poc'anzi per esempio riferito ai polifenoli perché quando più acqua c'è e maggiore irrigazione c'è purtroppo il livello di polifenoli si abbassa allora in questo caso sarà necessario per gli operatori diciamo per gli olivicoltori calibrare bene l'epoca di raccolta perché anche quello diciamo la presenza e la quantità dei polifenoli rispondono a criteri di fenologia quindi in questi casi sarebbe necessario anticipare un pochino la raccolta in maniera tale da far salire questi polifenoli e ammortizzare diciamo questi fenomeni negativi legati alla presenza dall'acqua altrimenti possiamo dire in maniera molto più semplicistica potremmo avere quest'anno un olio un po' più dolce o meglio quelle caratteristiche di amaro e piccante sono molto più attenuate sicuramente sì l'anno scorso abbiamo avuto un'eccellente qualità da questo punto di vista perché proprio c'è stata la siccità la mancanza d'acqua quindi quasi tutti gli olio poi quelle della Carolina non ne parliamo proprio erano particolarmente amari e piccanti forse anche troppo alcune categorie di consumatori che preferiscono gli olio più dolci magari lo riscontravano come un difetto noi sappiamo bene che sono caratteristiche di pregio queste dell'amaro e del piccante quest'anno sicuramente saranno di intensità minore rispetto a questi sentori ciclo continuo che cosa vuol dire ciclo continuo significa che praticamente tutto il processo di lavorazione lavora in continuo ed è a due fasi in altre parole alla fine del processo di produzione si estrarà l'olio e si estrarà tutto il refluo non è più come una volta i frantoi tradizionali che distinguevano l'acqua dalle sans adesso invece praticamente viene fuori tutto questo il ciclo continuo presenta moltissimi vantaggi diciamo oltre che naturalmente di scala economici e anche di equip di lavoro all'interno dell'industria di trasformazione ma anche diciamo per i maggiori quantitativi i maggiori quantitativi sono importanti non solo per l'economicità della macchina e quindi dell'industria ma anche perché permette di utilizzare perché il periodo di raccolta è estremamente stretto è ridotto nell'olivo quindi bisogna avere il tempo di lavorare quindi di frangere queste olive man mano che arrivano in un tempo particolarmente ridotto e questo a questo criterio risponde molto bene il fatto del ciclo continuo in più c'è questa automazione di tutti i fenomeni che sono fondamentali perché tu diciamo puoi regolarti tutte le condizioni che preferisci per fare il tuo olio la tua lavorazione programmando ogni singolo aspetto a covigere come dicevamo prima dalla temperatura lei parlava prima di un maggiore contenuto di acqua nelle olive soprattutto in questa stagione olivicola quest'acqua dove va a finire quest'acqua va a finire nei reflui perché nel momento in cui si viene praticamente a fare poi la separazione fra l'olio e il resto dell'olivo finisce nei reflui una volta ripeto c'era la separazione fra l'acqua infatti si chiamava l'acqua di vegetazione e il refluo vero e proprio che era la sans diciamo c'erano anche criteri di lavorazione poi successivi anche per l'estrazione della sans dei prodotti secchi eccetera adesso invece non è più così l'acqua confluisce insieme alla sans e viene defluita rimane refluo nel suo complesso diciamo quindi tolto l'olio tutto il resto è refluo non abbiamo quindi un olio particolarmente come dire meno denso degli anni precedenti non c'è questo rischio no 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 la densità non dipende dall'acqua la densità non dipende dall'acqua dipende dai fattori soprattutto di tipo genetico perché diciamo ricordiamoci sempre che la matrice i geni e quindi praticamente il messaggio genetico è sempre quello che determina tutto in tutte le circostanze tutte le espressioni della vita a maggior ragione nel campo vegetale e nel campo vegetale anche in olivicoltura ricordiamo il frutto quello dell'oliva che si presta a molte trasformazioni nel senso che oltre l'olio ho parlato di sanza ma c'è anche il nocciolino ci sono dei frantoi moderni adesso che utilizzano anche o meglio si utilizzano denocciolato si chiama il denocciolato cioè utilizzano dei criteri dei sistemi che permettono diciamo la denocciolatura delle olive e diciamo è considerata una pratica di incremento della qualità oppure di mancato decremento mancato scadimento diciamo così in altre parole gli oli denocciolati sono migliori perché non contengono quelle quantità di oli particolari che non sono tanto graditi contenute nei semi dell'olivo quindi nell'endocarpo e però anche quelli possono essere sfruttati si possono sfruttati sul piano energetico e infatti diciamo questo è un discorso questo è dell'utilizzazione dei sottoprodotti e del processo di trasformazione delle olive è un discorso di grande importanza ai fini energetici e anche agronomici perché questi reflui di cui parlavamo prima una volta erano considerati erano demonizzati infatti si ipotizzava diciamo ci sono state anche delle leggi ricordo la legge Merli eccetera che aveva imposto determinati limiti per poter scaricare questi reflui e quindi erano previsti dei depuratori dei digestori in maniera tale da rendere questi reflui poi scaricabili nei sistemi di smaltimento comuni diciamo della comunità adesso invece non è più così perché questi reflui possono essere reimpiegati in olivicoltura dal punto di vista agronomico sia come ambendanti sia come concimazione in composizione di compost che sono ideali per poter dare al terreno diciamo sostanza organica in grado di migliorare la struttura dei terreni e anche di arricchire la fertilità per quanto attiene invece il discorso dei nocciolini i nocciolini vengono molto usati a fine energetico quindi diciamo per essere trasformati bruciati per essere trasformati in energia pura ci sono molti molti tipi di macchine utilizzabili a questo riguardo che sono delle stufe particolari che vengono alimentate diciamo con questi nocciolini quindi meno rischi ambientali anche per chi ha un'azienda di questo tipo sì meno rischi ambientali anzi arricchimento sotto certi aspetti perché diciamo indirizzando bene questi sottoprodotti attraverso le vie che le dicevo poc'anzi in realtà non solo non si consuma nessuna alterazione ai danni dell'ambiente ma addirittura si migliora per esempio migliorando la struttura del terreno migliorando le condizioni di fertilità del terreno e anche con un ritorno economico perché poi queste piante che sono tra virgolette concimate meglio e di più poi alla fine esprimono un potenziale produttivo anche migliore allora in questa azienda abbiamo visto ci sono delle enormi cisterne degli enormi contenitori che sono predisposti anche a contenere dell'azoto ricordiamo perché questo azoto ah guardi questo della conservazione è un problema particolarmente importante intanto i contenuti i contenenti diciamo sono molti importanti si è passati diciamo dai metalli più svariati che si usavano in basate oggi si usano prevalentemente acciaio inossidabile che sono la miglior cosa possibile queste cisterne di acciaio inossidabile poi conservano questo prodotto in assenza di luce in temperature programmate e in più possono essere colmate con aggiunte di azoto che permette di isolare il prodotto dall'ossigeno e quindi di innescare i processi di ossidazione che sono quei processi che noi non vogliamo all'interno del nostro prodotto olio e che quindi assicurano una maggiore conservabilità dell'olio stesso e anche una maggiore qualità perché tende a far rimanere tutte le sostanze nobili dell'olio all'interno del prodotto stesso e mentre noi adesso ci avviciniamo a vedere appunto queste macchine come trasformano le olive in olio diamo la linea alla regia per la pubblicità cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app a a a a a a a a a Grazie a tutti. Eccoci rientrati, dunque qui possiamo chiamarlo la fase di stoccaggio, sono arrivate le olive, i frutti dai campi appena raccolte e da questo momento il frutto che strada percorrerà? Allora la strada che percorrerà sarà il carrello che alzerà il cassone. Ci ricordiamo il nome di questo contenitore? Allora sono delle bins, dette in termini tecnici diciamo, e qui diciamo dove le olive vengono scaricate tramite l'apposito carrello vengono poi portate nei macchinari dove poi avviene la lavorazione delle olive che uscirà fuori l'olio diciamo. Ecco, primo macchinario, quello che abbiamo visto prima, le olive verranno lavate, verranno separate? Verranno anche diciamo, verranno tolte le foglie, verranno deramificate per poi passare alla fase di frangitura dove avverrà diciamo la spremitura delle olive, dove le olive verranno poi, passeranno poi da lì nelle grammole. Dove dovranno stare circa 45 minuti in grammole, per poi passare alla fase di estrazione in cui l'olio diciamo verrà separato dalla sansa e dall'acqua. Ulteriormente poi dopo la fase di grammole, passeranno nel decanter dove ci sarà l'estrazione, per poi passare nel separatore dove ci sarà la definitiva uscita dell'olio e la finale separazione dell'acqua diciamo. Ecco, una volta che otteniamo quindi l'olio separato dall'acqua, verrà immediatamente imbottigliato oppure no? No, passerà diciamo nelle cisterne, nei silos appositi dove noi abbiamo varie qualità di olive, magari ogni qualità ha un determinato silos, magari ci sarà l'olio IGP, ci sarà l'olio biologico, ci sarà poi l'olio convenzionale. Ecco, è necessaria una fase, chiamiamola, di decantazione dell'olio? Sì, è necessaria prima dell'imbottigliamento, diciamo, l'olio verrà decantato in modo da poi essere imbottigliato. Prima parlavamo di temperature, la grammoleatura non deve... Temporare i 27 gradi affinché ci sia l'estrazione a freddo, che è quella che facciamo qui da noi. Questo è un frantoio biologico a ciclo continuo, quindi a freddo? Sì, sì, a freddo, quindi a temperatura inferiore a 27 gradi appunto. Abbiamo visto uscire proprio dalle macchine questo olio bellissimo che va quasi sul verdognolo. Insieme a me intanto mi ha raggiunto il capopanel del laboratorio della Camera di Commercio di Cosenza, il dottore Massimiliano Pellegrino. È un olio verdone, si può chiamare così? Allora, questo chiaramente dipende da quelle che sono le caratteristiche delle olive in partenza, perché più verde vuol dire che le olive erano più verde e più ricche di clorofilla. Noi abbiamo tutta una serie di varietà che qui ben rappresentate, appunto come si parlava dell'Egipi Calabria, la Rogianella, la Carolea, la Cassanese pure, che è quella più invaiata. È chiaro che dobbiamo costruire un po' quelle che sono queste caratteristiche che noi vogliamo ottenere dell'olio direttamente dalle olive. Quindi dobbiamo decidere pure l'insieme, l'olivaggio, questo insieme di olive da mettere insieme, da molire, in modo da far sì che nell'olio poi ritroviamo questi sentori. Perciò ricordiamo una cosa semplicissima. Ogni volta che cambia di colore questa che è l'invaiatura, vuol dire che nell'oliva si formano delle sensazioni aromatiche diverse e delle sensazioni non solo aromate ma anche gustative, quindi presenza di sostanze fenoliche antiossidanti. Quindi il verde, giallo-verde, macchie di colore rosso, rosso-marrone, fino ad arrivare in invaiatura completa. Ma questa ricordiamolo che è l'immaturazione fisiologica del frutto. Quindi possiamo sostenere che a seconda dell'epoca di raccolta, e quindi il colore dell'oliva in qualche modo inciderà poi sul sapore dell'olio. Assolutamente sì. Infatti ogni volta che cambiano questo colore si formano dei profumi, delle sensazioni aromatiche diverse. Ma l'importante è capire che all'interno di questo ancora l'olio non ha nessuna di questa sensazione. Le andrà ad acquisire quando? Nel momento in cui lo andiamo a lavorare. Nella lavorazione, nella gramola, abbiamo visto in questa gramola dove la pasta rimane per un determinato periodo di tempo, allora queste catene di atomi di carbonio, questi acidi grassi, si arricchiscono di queste sostanze. La prima cosa che noi dobbiamo percepire in una sensazione di degustazione è il fruttato. Come definizione è abbastanza semplice e banale. L'odore del frutto sano e fresco. Sano e fresco, lo ripeto, perché significa che questa oliva è sana e fresca. Se no, non potremmo avere un olio extravergine, non potremmo avere un prodotto di qualità, non potremmo avere nemmeno quelle sostanze fenoliche che noi andiamo a ricercare. Quindi l'importante è principalmente, ricordiamocelo, fruttato di oliva, schiacciamo, prendiamo l'oliva, prendiamola di diverso colore, schiacciamola nelle nostre mani, andiamo a sentire quelle sensazioni aromatiche e memorizziamoci, ricordiamoci, questo è il fruttato di oliva. Dopodiché dobbiamo andare a percepire le varie sensazioni. Come si fanno? Il metodo è abbastanza semplice e banale. Perciò vi dicevo che agli assaggiatori non devono influenzare il colore, perché un olio verde uno si immagina di avere un fruttato altissimo, di avere delle sensazioni piacevolissime. Non è detto, potrebbe non essere lavorato, come è sapientemente fatto qua, con olive sane e fresche, ma potrebbe avere delle fermentazioni, avere subito delle fermentazioni. Quindi cosa succede? Noi utilizziamo dei bicchieri colore scuro, così non siamo influenzati, noi dobbiamo solamente percepire quale è quello che effettivamente noi andiamo a sentire quello che c'è assolutamente nell'olio. Lei dice noi, si riferisce ai panel, quindi agli assaggiatori, oppure anche ai consumatori? Il panel è formato da un capopanel, come sottoscritto, che guida un gruppo di assaggiatori ben addestrati. Però è bene, adesso vi faccio vedere brevemente, che è qualcosa di banale e semplice, che ognuno dovrebbe assolutamente fare una degustazione di olio. Immaginate un attimo, potremmo paragonarlo, a quando la mattina ognuno di noi beve il caffè. Che cosa fa? Lo degusta. Nel senso che va a percepire quelle sostanze aromatiche che gli piacciono alle persone, quindi lo appagano, pagano proprio il gusto, quindi c'è una sensazione di piacevolezza, appunto di piacevolezza di quello che va a degustare, e la stessa cosa si fa con l'olio. Quindi noi, quello che sicuramente ci serve nella parte della degustazione, quindi la vista, abbiamo detto di no, perché il vetro è scuro e quindi non ci deve influenzare, ma assolutamente quello che ci serve nella degustazione è l'olfatto. Tutta la base, il nostro sapere, quello che è l'idea, per esempio le piante aromatiche, o tutti i vari profumi, tutte le cose noi le percepiamo direttamente col naso. Poi l'altra parte che ci serve è la nostra bocca, la nostra lingua. Sulla lingua ci sono particolari recettori gustativi, ma ci permettono di sentire poco. Amaro, dolce, salato e acido. Poi ci sono altri sapori, ma la miscelania di questo, l'interazione fra questi vari sapori, ci dà le infinite sfaccettature gustative. Ma noi non saremmo nulla senza il nostro naso, come gusto diretto e come retro gusto. Perché quando si trova la nostra bocca ben nebulizzata, non riusciamo a capire meglio quello che c'è nel suo interno e dobbiamo solamente concentrarci un attimo, catturare queste sostanze che si sono formate e quindi con il nostro naso e quindi andare a dare un giudizio complessivo di quello che è il prodotto finale. Lei quindi dice che naso e bocca sono importanti. Se allenati o anche un semplice consumatore riesce o riuscirebbe a riconoscere un buon olio extravergine d'oliva? Un assaggiatore professionista deve essere per forza allenato, ma un semplice cittadino consumatore basta, è semplicissimo il metodo. L'altro giorno mi trovavo appunto in una scuola dei bambini, scuola media, ho dato due campioni di olio, uno che non aveva le caratteristiche di eccellenza e un altro di eccellenza, subito mi hanno saputo dire qual era quello buono rispetto alle varie sensazioni, perché dopo una piccola concentrazione messa in un bicchiere riscaldato, subito sono riusciti a capire quali sono le caratteristiche. La temperatura ottimale per sentire tutte queste caratteristiche è intorno ai 30 gradi, dai 26 a 30 gradi, è qua che si sviluppano meglio queste varie sensazioni. Io vi faccio vedere con un bicchierino di plastica, perché chiaramente non tutti hanno a disposizione il bicchiere ufficiale d'assaggio, ma sarebbe quasi impossibile tante volte utilizzarlo, non lo utilizziamo quando facciamo le nostre certificazioni, ma con un bicchiere del genere si può riuscire benissimo a fare questa degustazione. Che cosa facciamo? Abbiamo prima visto la spremitura dell'oliva, versiamo un po' di olio nel bicchiere e facciamo in questo modo. Dobbiamo catturare la funzione, è questa, è fatto esattamente al contrario, perché è chiaro, qua si congedono le sostanze aromatiche che si sviluppano. Noi dobbiamo in un certo modo andarla a percepire lo stesso. Si fa semplicemente. Prima andiamo a ungere un po' le pareti, perché quello che rimane sulle pareti si concentrerà e io riuscirò a sentirlo meglio. Poi lo tengo nel palmo della mano e con l'altro palmo mi funge da tappo. Questa frizione che io vado a fare serve per riscaldare il contenuto che c'è di olio nel bicchiere. Quindi bastano pochi secondi che io vado a girare, mi si forma il calore, quindi arriverò a quella temperatura ottimale. Una volta fatto questo io utilizzerò quello che vi ho appena detto. La prima cosa è andare ad annusare e capire prima se si sente il fruttato. In questo caso vi posso assicurare che abbiamo un buon fruttato medio di oliva, quindi vuol dire che io lo sento sicuramente, non ho dei dubbi che ci sia il fruttato. Lo sento, è molto presente, molto persistente, quindi ci sono anche altre sensazioni che poi vi spiegherò dopo man mano che faremo l'assaggio. L'altra parte, quindi una piccola percentuale di quest'olio lo devo far rimanere sulla mia lingua per un tempo breve in modo da svegliare questi recettori gustativi che sono abbastanza addormentati. Noi non lo utilizziamo spesso, tante volte si mangia col telefonino in mano, pensando ad altro. Cerchiamo di pensare solo e esclusivamente a quello che stiamo facendo in modo da concentrarci e sentire meglio queste varie sensazioni. Quindi seguitemi che è abbastanza semplice. Adesso già la sensazione che vi dicevo di amaro già mi è arrivata, già la sento abbastanza persistente. Alla fine cosa devo fare io? Devo fare questa operazione. Significa che devo nebulizzare l'olio in tutte le parti della bocca all'inizio del palato perché il piccante lo sento nelle pareti molli della gola è quello che si inviamma quando uno ha mal di gola. Allora quando mi arriva là vuol dire che c'è quella sensazione di piccante e quindi ricordiamolo, sfatiamo qualche mito, fruttato, amaro e piccante sono indice di presenza di sostanze antiossidanti. Quindi sostanze che fanno bene alla nostra salute. Poi è chiaro, noi riusciamo a sentire anche altre sensazioni. Chi di voi non conosce il sapore della cicoria, della rucola selvatica, non quella che si vende nelle buste nella grande distribuzione, quella rucola selvatica, l'amaro, il piccante, la persistenza, allora anche la mandorla, il pomodoro, la frutta cerba, quindi tutto questo, ma perché? Perché si sono formate sapientemente dall'unione di tutte queste orive secondo quell'era l'indice di maturazione. Verde, giallo-verde, con macchie di colore rosso, qualcuna anche invaiata che mi dà quel tocco di armonia al prodotto finale che io vado a fare. Quindi ricordiamoci questo modo di fare l'assaggio abbastanza semplice, abbastanza banale, in modo da cercare di capire, stare attenti a capire che la qualità dell'olio è una cosa fondamentale. Poi tutte queste, alla fine si forma in questa sensazione che vi ho detto, un profilo sensoriale. Questo profilo sensoriale serve allo chef, al ristoratore, al consumatore, per capire come andare ad esaltare la cucina che ho fatto. Ricordiamoci che questo è meglio utilizzarla a crudo, è inutile di andare a sprecare questo sul fondo della cottura, in padella, assolutamente no. lo andiamo ad aggiungere a crudo, ci facciamo del bene noi, ma esaltiamo anche la pietanza che è stata preparata, quindi assolutamente un piacere. Quindi in questo caso abbiamo, ripetiamolo, un fruttato di oliva verde, perché prevalentemente si sente questa sensazione aromatica verde. In bocca subito abbiamo queste sensazioni abbastanza piacevoli, intense, persistenti. dall'inizio mi entra come io riesco ad abbinare questo amaro al fatto della cicoria e alla rucola selvatica, perché mi arriva subito questo piccante prorombente che mi va a riempire tutta la sensazione aromatica che ho percepito, e quindi oltre ad essere un piacere è un beneficio che faccio al mio corpo, quindi a quello che io vado ad ingerire. Abbiamo sfatato anzi questo mito del piccante e dell'amaro che non sempre però incontra i gusti dei consumatori. In quali pietanze magari è più consigliato utilizzare l'olio più amaro? Purtroppo è vero, ancora c'è molta reticenza rispetto all'amaro. Ancora alcuni dicono che abbiamo poc'anzi parlato pure della qualità che c'era dell'anno scorso, quest'anno sapientemente lavorati si riescono ad ottenere questa situazione e anche questo amaro. E ancora c'è molta reticenza perché non piace molto direttamente questo amaro. È chiaro, probabilmente se io vado a condire un pesce con un olio molto amaro sicuramente mi darà fastidio o se vado a fare una maionese o lo metto su un purè probabilmente no. Però su una tagliata, su una insalata, già un'insalata va bene, su una pasta sulla zuppa, quindi anche su una pasta con del sugo forte. Una volta ho fatto una prova con il sugo di carne di maiale. Il maiale è abbastanza dolce. Poi mettono il parmigiano, cosa sbagliata secondo me. Andiamo a mettere un pecorino oppure andiamo a mettere un olio che dal piccante da quella forza, da quel gusto, da quella preparazione andiamo a contrastare pure l'utilizzo dei grassi saturi con quelli moni insaturi e quindi combattiamo questo e fa bene direttamente alla nostra salute. Quindi assolutamente sì. Dobbiamo cercare di abituarci un po' a questo perché ne va della nostra salute, ne va della salvezza veramente dell'olivicoltura in generale perché dobbiamo sempre di più, specialmente in Italia, specialmente in Calabria, puntare sulla qualità e la qualità nell'olio assolutamente è questa presenza di queste sostanze. Poi giusto per farvi capire meglio, noi per poterla mangiare questa oliva direttamente non riusciamo perché chi non l'ha mai fatto vi prego di farlo, andatela a mordere, è un frutto, sicuramente amarissimo e piccantissimo, allora se l'olio viene estratto da questa oliva vuol dire che c'è questo amaro. Pensiamo quando le facciamo olive schiacciate come facciamo? Noi le schiacciamo, vengono messe in acqua e rimangono là almeno una settimana cambiando l'acqua tutti i giorni perché quell'acqua mi porta via assolutamente questa sostanza amare per otterle mangiare è questo ma se io devo estrarre l'olio vuol dire che al suo interno deve avere queste caratteristiche deve avere queste sostanze che derivano dal frutto di origine. E allora per concludere oltre all'analisi chimica dell'olio quanto è importante e quanto incide l'analisi sensoriale? Assolutamente tantissimo anche perché l'analisi chimica potrebbe dare un olio che rientra in tutti i parametri che deve essere extravergine ma potrebbe essere dichiarato vergine o addirittura lambante dal panel test oppure il contrario essere extravergine per quanto riguarda il panel test ma avere altri parametri come la percentuale di acidità libera più alta dello 08 quindi non essere più extravergine quindi vanno fatte assolutamente tutte perché in questo modo diamo la sicurezza che è quell'olio ha quelle caratteristiche e poi diamo anche questo profilo sensoriale in modo da capire bene quale potrebbe essere poi l'abbinamento in base a quello che io ho avvertito direttamente nell'olio quindi questo poi è cultura questa è formazione questa è informazione e questo è benessere della persona di chi va a consumare questo prodotto alle nostre spalle una macchina che viene utilizzata per imbottigliare l'olio che abbiamo appena visto estratto possiamo dire dottore Giannotta di essere proprio nella fase finale di questa filiera sì siamo nella terza e ultima parte della filiera l'ultimo segmento cioè quello di confezionamento e imbottigliamento del prodotto anche questa è una fase molto importante perché non solo per la presentazione diciamo del prodotto sui mercati ma anche perché in questa fase è prevista anche l'etichettatura e quindi attraverso l'etichettatura anche il messaggio sui contenuti di questo prodotto soprattutto sul retro bottiglia si possono specificare tante cose dalle qualità chimiche e organolettiche dell'olio anche alla zona d'origine eccetera per quanto qui siamo in una zona IGP olio di Calabria quindi già l'etichetta IGP indica la zona di provenienza una garanzia per il consumatore certamente sì una garanzia per il consumatore è una certificazione di qualità ecco accanto a me l'imprenditore Giuseppe Lento lei fa parte di questa grande famiglia del consorzio IGP olio di Calabria anzi è una grande opportunità che abbiamo con questo fatto dell'IGP quindi speriamo bene che come si dice vada avanti e quindi ci dà un'opportunità anche per il prezzo per spuntare un buon prezzo ma soprattutto una buona qualità e far conoscere che è IGP di Calabria quindi teniamo la nostra Calabria IGP sinonimo di qualità garanzia anche per il consumatore a questo punto si occupa anche della parte del prezzo diceva l'imprenditore Lento certo l'IGP alla fine è quel valore aggiunto che i nostri produttori possono raggiungere con un marchio adeguato e un marchio europeo che dà garanzia al consumatore innanzitutto io voglio ringraziare anche l'associazione olivicola Cosentina per queste iniziative ottime iniziative dove far vedere a tutti gli olivicoltori e non solo ai consumatori come viene prodotto un buon olio di oliva come si ottiene la qualità c'è stata l'opportunità di vedere la lavorazione in campo e oggi vedere come si viene a fare la trasformazione trasformazione che siamo in un'azienda di eccellenza perché è un'azienda certificata l'IGP come azienda olivicola e oltre ad essere autorizzata anche a imbottigliamento e trasformazione delle aziende olivicole che hanno la certificazione l'IGP è uno dei pochi frantoi su questa zona una zona vocatissima una zona che esprime tantissimo come produzione di olio come qualità l'importante è questo questa presenza e questa voglia anche dei nostri olivicoltori dei nostri trasformatori l'abbiamo sentito di essere parte integrante di questa iniziativa di questo consorzio che porta avanti il nome della Calabria lo porta avanti con un prodotto di eccellenza che è a salvaguardia della qualità delle nostre produzioni e quindi diventa ancora più importante sia per noi che per quella che è l'olivicoltura calabrese ecco appunto voglio rimarcare proprio questo Presidente Magliocchi qui in Calabria possiamo garantire qualità possiamo garantire tra l'altro un'efficienza come un frantoio come questo che mi sembra ultramoderno quello che fa più piacere è proprio questo è di far vedere una Calabria che è tutta diversa da quello che si pensa cioè una Calabria che innanzitutto è al passo con i tempi una Calabria che fa innovazione una Calabria che si adegua a quelli che sono tutti i parametri della qualità dettate dalla comunità europea quindi dar sicurezza innanzitutto al consumatore e innovarsi l'abbiamo visto un'azienda per noi diventa un'azienda modello è un'azienda che segue dall'inizio quella che è la salvaguardia della qualità io non mi stango di dire qualità 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 perché la Calabria è qualità ma è qualità in tutti i sensi anche nella vita comune nella vita di tutti i giorni la Calabria è veramente la culla della qualità ha il sole ha l'ambiente che esprime tanto e quindi è una culla di eccellenza parlavamo di qualità il presidente Magliocchi ha ribadito e non si stancherà mai di farlo che la Calabria è anche sinonimo di qualità dottore Pellegrino l'abbiamo appena visto con l'assaggio che abbiamo fatto e là si esprime al meglio sia il territorio quindi con le sue caratteristiche espresso proprio al meglio quindi assolutamente sì di qualità di qualità eccellente esprimendosi quindi in presenza di fruttato intenso quindi in presenza di amaro piccante e altre sensazioni aromatiche poco prima menzionate che sono proprio sinonimo direttamente del territorio della qualità ma non solo anche di quello che sono le caratteristiche non dimentichiamocelo di quello che è l'IGP di Calabria deve avere una presenza importante di amaro piccante di fruttato e di altre sensazioni tipo carciofo pomodoro mandorle e quant'altro che si traducono nella presenza ricordiamolo dei fenoli degli antossidanti superiore almeno superiore a 200 mg chilo così è scritto nel disciplinare ma siamo abbondantemente oltre il doppio di quello scritto nel disciplinare e io la ringrazio dottore Pellegrino per essere stato con noi ringrazio nuovamente il dottore Iannotta ringrazio l'imprenditore Lento e grazie al presidente del consorzio IGP Olio di Calabria il dottore Magliocchi con questo è tutto noi ci fermiamo qui ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata e grazie a tutti cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app e grazie a tutti e grazie a tutti